Primo weekend di autunno ufficiale qui nella riviera delle palme ci sono ancora dei turisti ma sono soprattutto i residenti a godere del mare che vedete qui alle nostre spalle anche se la spiaggia ormai è semi vuota pochi gli ombrelloni rimasti aperti specie dopo il blitz della capitaneria di Porto allora siamo andati a vedere come trascorrono questo weekend i san benedettesi ma anche i turisti vorrebbero tutti andare in spiaggia ma non si può andare e benché meno fare il bagno perché non c'è servizio salvataggio e allora rimaniamo seduti qui a fare una chiacchierata San benedettese preferisce la spiaggia piena di turisti o così come adesso un po' più spoglia? No la spiaggia è sempre piena sempre piena di turisti con un bel movimento Where are you from? Stoccardo Do you like San Benedetto? We liked it yes E se le spiagge sono praticamente vuote il lungomare è letteralmente preso d'assalto perché insomma cosa c'è di meglio che una bella passeggiata di primo mattino sempre che non arrivi la pioggia? Sì sì a noi piace San Benedetto siamo di Ascoli però Sì Quindi comunque nella riviera delle palme Sì Eh no il weekend lavorerò però forse nel fine settimana vabbè un giretto lo facciamo sempre Il cielo minaccia pioggia Ma non mi fa paura niente Oggi niente mare? Oggi niente mare Perché signora? È grigio e quindi si passeggia Eh sì niente mare come fai al mare? A più al freddo Dai non è freddo Beh vabbè vabbè Sì poi fra un momento e l'altro arriva la pioggia Addio mare Da quanto tempo a San Benedetto? Eh tre giorni Vi piace la città? Sì molto Molto abbastanza E come mai l'avete scelta? Eh per caso Non ho una destinazione per rilassarci un po' e basta Allora che prevede il weekend? Non lo so se va via domenica mattina perciò si sta sabato e via Ti piace San Benedetto? Sì sì è abbastanza Bene E' contenta che sta arrivando l'autunno? Si è già arrivato Sì però è perché è un'altra atmosfera ci vuole Se fosse sempre estate Ha sofferto quest'estate il caldo? No no sono stata benissimo con i miei figli al mare Anzi a me mi manca il mare da morire Oggi non si può? Oggi purtroppo no Facciamo la passeggiata Questo bel lungomare? Sì infatti qua si sta benissimo San Benedetto è bella